Ciao ragazzi, come state? Allora facciamo questo video per dirvi che, cioè per dirvi perché c'è anche mia sorella qui con noi stiamo facendo questo video nelle quinte del teatro Alighieri perché stasera andremo a fare uno spettacolo a Ravenna vogliamo dirvi che tra pochi giorni uscirà un video a cui noi teniamo particolarmente e questo video è il video di un nuovo mashup barra medley di brani molto molto famosi di brani di artisti molto anche importanti direi brani che a noi stanno molto a cuore e che hanno segnato la mia, soprattutto la mia infanzia perché Ellie è un po' più piccola questo nuovo mashup che abbiamo creato l'anno scorso nel periodo di Italia's Got Talent è un racconto della vita adolescenziale ovvero dei sentimenti che noi adolescenti proviamo noi siamo un po' lunatici e delle contraddizioni che ci sono nel mondo adolescenziale esatto poi ovviamente è aperto a molte interpretazioni questo questo mashup perché comunque racconta è una storia e non perdetevelo non perdetevelo Hi everyone we are making this video because in a few day on our youtube channel there will be a new video of a new mashup we made it is composed by songs and by very important artists this video recounts a story in particolarly recounts the emotions of the teenagers like us like us don't forget to subscribe on our youtube channel the name of the channel is Francesco Faggi if you like it you can put some thumbs up and you can share it with your friends you need to watch it we are gonna say subscribe on subscribe on or subscribe on our youtube channel youtube channel and this video buongiorno prof buongiorno prof buongiorno prof